L'effetto nostalgia per Alessia Marcuzzi che, su Instagram, ha pubblicato una sua vecchia foto mostrandosi totalmente al naturale ai fans. Nello scatto che ha rapidamente fatto il giro del web portando a casa like e vari complimenti, Alessia Marcuzzi aveva solo 16 anni, ma la bellezza non è assolutamente in discussione. La conduttrice delle Iene Show indossa un bikini che mette in risalto le sue forme già esplosive e sfoggia un bellissimo sorriso ornato dai lunghi capelli biondi. Oggi è giornata di scatoloni con vecchie foto.Mia è sempre curiosa di vedere mamma da piccola, Tommy piccolo, lei piccola e adesso abbiamo appena trovato questa, io ho 16 anni, e fra pochi giorni ne compio 46. Ma il costume a scellare? È appena tornato di moda, no? Scrive la conduttrice. Nonostante siano passati anni, la Alessia Marcuzzi di oggi non è molto diversa da quella di qualche anno fa. Oltre ad essere sempre bellissima, ieri come oggi, la Marcuzzi è assolutamente radiosa. Il sorriso sincero riscalda i cuori dei fans che hanno inondato i suoi profili social di complimenti. Alessia Marcuzzi, le foto di famiglia.Il profilo Instagram di Alessia Marcuzzi è pieno di momenti privati. La conduttrice, infatti, ama condividere con i fans le foto che racchiudono l'essenza della sua vita. Innamorata dei figli Mia e Tommaso, del marito Paolo Calabresi Marconi e di tutta la famiglia, su Instagram, la Marcuzzi pubblica spesso foto private. E così, dopo quella dei suoi 16 anni, è arrivata la foto con la bellissima nonna. Protagonista dello scatto successivo, poi, è la piccola Mia che diventa ogni giorno più bella esattamente come la mamma. Momenti intimi con cui la Marcuzzi ama raccontarsi ai fans che, oltre ad apprezzare la sua professionalità, amano ancora di più la Alessia privata che si diverte con i figli ed è sempre autoironica. Grazie per il like.